Ciao Solisotta! I segreti di Acqua Morta, delitto al lago, il nuovo libro scritto da Fabio Geda e Marco Magnone. È una storia misteriosa, segnata dalla scomparsa di una donna e dal ritrovamento del suo kayak sulle rive del lago. I protagonisti, Nadia, Edoardo, Rachele e Liequat, non sono amici del cuore, hanno vite ed interessi diversi tra loro, ma sono legati da Orfeo. Orfeo è un loro amico scomparso, anche lui, tra le acque del lago, che torna prepotentemente attraverso delle visioni che i quattro ragazzi hanno in contemporanea e dà loro degli indizi sulla sparizione di questa donna e li spinge ad investigare. Questa pica sovranaturale apre un sacco di scenari nella storia e la rende più frizzante ed imprevista. Vorrei far notare le illustrazioni di Marta Bertello, dalla copertina che cattura subito l'attenzione, dalle pagine incorniciate e dalle illustrazioni che creano la giusta atmosfera. Questo insieme alla storia lo rendono un libro assolutamente da leggere. Grazie.